Ciao amici benvenuti nel mio canale. Ti sarei grato se ti piace e iscriverti al canale prima di iniziare il video. Non dimenticare di attivare le notifiche per le ultime notizie. Il 30 settembre debutterà in prima serata su canale 5 l'attesissima fiction Viola come il mare. Prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Fiction Mediaset, si ispira al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l'estate, e vede come protagonisti Ken Yaman e Francesca Chillemi. Le strade di Viola Vitale, interpretata dall'ex Miss Italia, cronista di Sicilia Web News alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto, e quelle dell'ispettore capo della polizia italo-turco, Francesco Demir, interpretato dal divo turco, si incroceranno proprio durante un'indagine. Il loro rapporto, caratterizzato dalla collaborazione nella risoluzione dei casi più spinosi, è fatto di tanti scontri, ma anche di estrema complicità e di una forte attrazione fisica. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi possiede una sorta di dono. Si tratta della sinestesia cromatica, una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi, uditivi o visivi. Viola, vede, le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia e alla paura. E quando riceve questi input, è un po' come se quelle emozioni le provasse anche lei. Tale circostanza genera due aspetti, uno positivo ed uno negativo. Il primo è che la giornalista Viola Vitale riesce ad immedesimarsi negli altri, il secondo è che molto spesso viene sopraffatta dalle emozioni. In ogni caso, grazie a questa sua particolare, dote, riesce ad aiutare l'ispettore Demir nella risoluzione dei casi. Questa mattina, a Roma, è stato presentato il cast al completo di Viola come il mare. Oltre a Kenny Amane e Francesca Chillemi, e al regista Francesco Vicario, c'erano Simona Cavallari, Chiara, Mario Scerbo, Alex, Chiara Tron, Tamara, Rubel Lamalfa, Carmelo, Giovanni Nasta, Turi, Daniele Virzi, Rosario, Romano Reggiani, Raniero Sanmartano, Davide Dolores, Dottor Pierangelo Aiello, che ha in cura Viola, Kishan Wilson, Farah, Alessia Danna, Fiorella, Tommaso Basili, Domenico Parisi. Grazie a tutti.